Un atto di protesta? Da qualsiasi prospettiva la si vede, quanto accaduto sabato pomeriggio scorso è inqualificabile, non c'è alcuna giustificazione, il coro di condanna è unanime. I rifiuti sparsi sulla strada in via Rio de Janeiro e in via L'Indipendenza rappresentano un vero e proprio pugno allo stomaco ad un'intera collettività. Alcuni consiglieri comunali hanno già condannato l'azione commessa da mani ignote, non possiamo lasciare sola un'amministrazione che pur avendo tanti difetti ha il merito di avere la volontà di cercare di risolvere problemi che affliggono la nostra città da sempre, hanno detto Guido Sitacusa, Sandra Bennici, Carmelo Casano, Sara Cavallo e Giuseppe Guastella. Per questa ragione sono stati invitati il consiglio comunale e la città a non rimanere indifferenti a reagire come hanno sempre fatto, dimostrando che i gialesi non sono tutti uguali. Sabato scorso sul posto si sono immediatamente presentati il sindaco Domenico Mersinese e il suo vice Simone Siciliano. È un atto criminale, un atto criminale dove nella difficoltà, riuscendo in queste settimane con la discarica chiusa a mantenere il decoro, ora che stiamo riuscendo a ritornare alla normalità, qualcuno ha pensato bene di utilizzare i rifiuti creando un pericolo per la circolazione. È un atto intimidatore, è un atto mafioso. È la cosa più grave in un centro abitato e nessuno ha visto nulla, in un paese omertoso che poi praticamente diciamo come dobbiamo crescere. Purtroppo sempre quattro stupidi riescono a rovinare un'intera collettività, un'intera città. Questo è un atto che noi sicuramente non possiamo accettare. Se qualcuno lo mette come una stile all'amministrazione siamo pronti ad accoglierla, ma sicuramente questo è un atto criminale e come tale deve essere messo in evidenza. Vedremo quali saranno i passi da fare nei prossimi giorni. Abbiamo raggiunto l'apice dell'inciviltà di questo territorio, il comportamento di un gruppo di barbari che ha deciso di devastare un'intera strada spargendo rifiuti ovunque. È chiaro che l'operazione è un'operazione organizzata su cui non si avrà nessun tipo di tolleranza. Avvieremo le denunce del caso, le indagini che comportamenti di questo tipo non sono tollerabili. Le sfide all'amministrazione sono delle sfide perse in partenza. Nessun comportamento di questo tipo può essere accettato o accettabile da questa amministrazione. Solo chi non è degno di essere gelese può assumere comportamenti incivili e compiere atti di assoluta aviltà. Gesto che noi, prima ancora di essere rappresentanti del popolo, da gelesi condanniamo con affermezza. Lo dice il consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra. Noi crediamo che sia stato un attacco frontale alle istituzioni comunali, quasi una sfida. Una sfida però che non ha vincitori ma un unico perdente, il gelese. Occorre dialogo adesso, occorre approvare subito il regolamento che possa finalmente invogliare i cittadini a stare dalla nostra parte, a differenziare, a risparmiare su latari, ma soprattutto punire chi non rispetta le regole. L'amministrazione è cambi passo e se attivi da subito al fine di rimediare a questo fenomeno negativo, ispettori ambientali, personale interno e polizia municipale potranno essere delle sentinelle per cercare di reprimere questa incresciosa abitudine, non solo nei confronti di questi cittadini, ma anche della società che gestisce rifiuti in città, monitorando la regolarità del servizio. Una sfida che va raccolta e vinta a tutela della cittadinanza che orgogliosamente si sente gelese. Per l'esponente di forze tarie, Scerra, più controlli, uguale migliore servizio, uguale maggiore risparmi, uguale riduzione tari. Giovanni Vanebianco, quanto è accaduto il sabato scorso in Viena di Dipendenza in via Rio de Janeiro con cumuli di spazzatura ovunque, lasciati da mani ignote, vi lascio senza parole anche da parte vostra, c'è una condanna per un gesto che non ha una giustificazione vera e propria? È un gesto che non può avere nessun tipo di giustificazione, sono atteggiamenti che non vanno bene, sicuramente da condannare, e che chiaramente non possono trovare alcun tipo di giustificazione, anche se l'emergenza di questi giorni, da un punto di vista di raccolta rifiuti, era sotto gli occhi di tutti. È un quartiere residenziale così popoloso come quello di Contratascavone, chiaramente l'hanno avuto in maniera molto più accentuata. E quindi è vero che è una situazione tra l'altro indollerabile perché si potraeva da diversi giorni e forse i residenti pensavano che nel momento in cui la discarica di impazzo era stata riaperta magari avrebbero avuto levata l'immondizia davanti ai loro quartieri, però chiaramente questi gesti non possono che essere condannati. Voi come Udc però avete interrogato l'amministrazione comunale sull'ordentico problema che si verifica a Manfria. Sostanzialmente voi cosa chiedete alla Giunta? Io veramente avevo fatto una richiesta di accesso agli atti dal 7 di luglio per sapere tutti gli ordini di servizio che erano stati disposti per quanto riguarda la raccolta differenziata a Manfria, lo spazzamento in questa località balneare e in questa frazione di Gela e anche in relazione alla pulizia delle spiagge che secondo il capitolato dovrebbe essere quotidiana ma da quello che dicono invece i residenti avviene poche volte alla settimana. Alla luce di quelle che sono state gli invii delle bollette per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, io chiedo di sapere all'amministrazione in che modo venga svolta la raccolta dei rifiuti presso queste località, queste frazioni di Gela e se la richiesta della tassa è avvenuta in maniera intera oppure proporzionata al servizio che viene effettuato. E l'amministrazione comunale ha risposto alla sua interrogazione? Come purtroppo accade da un po' di tempo a questa parte, l'interrogazione verrà diciamo trattata ad agosto, martedì e diciamo 3 agosto, però nello stesso tempo io non ricevo nessun tipo di possibilità di acquisire gli atti in questo senso, nonostante io faccia sempre formale richiesta di quello che ho bisogno. Rubano centinaia di metri di fili elettrici di rame e la conseguenza è che per la mancanza di energia elettrica si fermano le pompe di sollevamento dell'acqua e Niscemi ripiomba nell'emergenza idrica. E' quanto accaduto nelle ultime ore nella zona della sorgente comunale di Polo. Già la cittadina niscemese soffriva la sete, ora a maggior ragione. Fortemente deluso e amareggiato il sindaco Francesco Larosa. Il danno che è stato creato non è al singolo, è una questione, una d'immagine nei confronti della nostra città e poi mantenere a secco una comunità di 30 mila anime proprio in questo momento, in un momento particolare della vita quotidiana. Oggi non ci possiamo permettere minimamente di rimanere senza acqua perché qualcuno ancora si ostini e continua a perpetrare dei furti verso la collettività. E appunto io penso all'Enel immediatamente di attivarsi e andare a posizionare dei gruppi. Se questo fosse fatto mi attiverò io in modo immediato, poi vediamo di chi è la colpa, vediamo chi dovrà pagare, ma intanto io mi attiverò subito. Aspetto tutto oggi come siamo rimasti in linea generale all'interno dell'amministrazione e poi vediamo come intervenire in modo immediato. Però questi signori non possono rimanere impuniti. Il comune di Niscemi dunque sta cercando quanto prima di rendere funzionanti le pompe di sollevamento della sorgente Polo con l'installazione e l'uso di gruppi elettrogeni. Dove chiedere a un privato di affittarmi un gruppo elettrogeno per far sì che non si entri nel panico. Qua stiamo parlando di qualcosa che è stato voluto dai cittadini che hanno partecipato a un referendum votando per il pubblico. Ancora si ostina qualcuno a dare l'acqua al privato e nello stesso tempo dobbiamo subire queste angherie, queste migliaccate da qualche soggetto che, dico io, sicuramente non ha messo in funzione il cervello prima di fare l'azione. Prima di lanciare accusi a destra e a manca, ed in particolar modo alla povera gente, un'amministrazione seria dovrebbe interrogarsi sulle cause che hanno scatenato certe forme di protesta. Definire come atto mafioso una forma di ribellione che, per quanto grave, rimane pur sempre un sintomo di malessere e disperazione, appare come un tentativo di non volersi assumere le proprie responsabilità, mostrandosi in tal modo assolutamente incapaci di affrontare l'importante e delicata questione nei giusti termini. E il pensiero di Lucio Greco di un'altra Gela, in merito a quanto accaduto sabato scorso in via Rio de Janeiro e via L'Indipendenza, il riferimento è a rifiuti sparsi in strada da mani ignote e su cui i carabinieri della reparto territoriale, come dicevamo ieri, hanno aperto un'indagine. Arrivare poi a mettere in dubbio, così come ha fatto il vice sindaco Simone Siciliano, in un suo post che a Scavone vi abitano dei poveri, solo perché buttano una gran mole di cibo tra i rifiuti, dimostra, dice Greco, non solo di non avere consapevolezza della grave crisi economica, ma cosa, ancora più grave, di disprezzare la povera gente. Forse, preso come è dall'euforia di vivere un momento di apparente gloria in calza greco, non si è reso conto che nemmeno il più acceso e volgare dei razzisti si sarebbe sognato di fare una così grave e simile affermazione. Vuole negare che ci sia crisi o vuole negare alle famiglie povere e bisognose il diritto di mangiare? Con queste simili affermazioni che Greco ritiene farneticanti, non si andrà sicuramente da nessuna parte. Con un'aggiunta di tale livello che nella migliore delle ipotesi non si rende conto di quello che dice e non ha la benché minima idea delle ripercussioni che certe incaute affermazioni possono provocare, Gela rischia di sprofondare in un baratro da cui non sarà facile risalire. Giusto e opportuno l'intervento di Don Luigi Petralia, parloco del quartiere Scavone, ma sarebbe auspicabile, visto il tema affrontato, che intervenisse anche la politica, chiamata proprio per svolgere questo compito. In un momento così grave non si può giocare a nascondino con il destino della città. Per Lucio Greco ci vogliono posizioni chiare e coraggiose. C'è una totale assenza di pianificazione su temi che andrebbero affrontati in un certo modo e non a spot come usa fare l'amministrazione. Lo dice la Commissione Ambiente e Sanità preseduta dal consigliere comunale Virginia Farruggia. È stata indetta una riunione importante tra amministrazione, ASP e ARPA sul problema sollevato da Emilio Giudice, direttore della riserva del biviere al Ministero dell'Ambiente della presenza dell'arsenico nelle acque di falda. La Commissione, dice Farruggia, aveva già incontrato l'ASP nella persona di Calogero Buttieri per discutere la situazione delicata dei pozzi di emungimento della piana di Gela e lo stesso Buttieri aveva confermato le analisi fatte dall'ARPA a nove pozzi a campione e per i quali la Commissione aveva chiesto di poter avere i risultati. Ad oggi non è arrivato nessun dato alla Commissione, così come i dati del monitoraggio acqua e aria, chiesti in più occasioni alla Giunta. La Commissione, continua Virginia Farruggia, non è stata invitata all'incontro ma soprattutto non viene messa in condizione di operare per i cittadini come sarebbe nelle sue mansioni. Riteniamo propagandistico fare un comunicato stampa sull'arsenico senza aver avuto l'interesse di pubblicare i risultati dell'ultimo monitoraggio ambientale proprio sul processo dell'arsenico realizzato dal CNR di Pisa quando poi si dedige un altro comunicato di allarme sulla contaminazione di uno dei pozzi sempre della piana ad uso agricolo. La Quinta Commissione chiede che venga immediatamente aperto un tavolo sull'arsenico e che si dia evidenza della presenza o meno del contaminante sul territorio e chiede di pubblicare i dati scientifici sulla speziazione dell'arsenico del CNR di Pisa alla presenza del professor Fabrizio Bianchi. Piuttosto che dare notizie allarmanti circa la contaminazione di un pozzo ad uso riguo nella piana, si faccia una caratterizzazione seria della stessa così da pianificare azioni puntuali a seconda delle risultanze. In questo modo si eviterà di devastare un settore già al collasso, quello agricolo e soprattutto si cercherebbe di contrastare un debito d'immagine che la città ha da sempre subito in cambio di una sicurezza economica che così sicura non si è rivelata. Speriamo, dice la Commissione, che la Giunta si metta dalla parte dei cittadini creando le condizioni ottimali affinché Gela possa ripartire economicamente prima di tutto attraverso le proprie risorse e non, come sempre è accaduto, subendo le scelte dall'alto da parte di investitori esterni che poco avrebbero a che fare con l'interesse del territorio. Bocciatura su tutti i fronti per l'amministrazione comunale di Gela da parte del Movimento 5 Stelle. I grillini chiedono le dimissioni del sindaco e degli assessori perché, dicono, possano prendere atto del fuoco negli animi dei cittadini fiamme che loro stesso alimentano. In una nota il gruppo consigliare, tanto caro a Beppe Grillo, sottolinea che la tensostruttura di Marchetella brucia, i mezzi della Ghelas bruciano, Marchetello brucia durante il mercato settimanale, le auto dei cittadini continuano a bruciare, gli ombrelloni cadono, le strisce cambiano colore, la munnizza o brucia o viene usata nelle strade come una barricata nelle cinque giornate di scavone. Gesto incivile da condannare che offende soprattutto la gente per bene di quelle quartiere. Questa giunta, ferita dalle sue stesse condotte, adesso fa la vittima, dicono i grillini, con qualcuno che parla di chissà quali regie occulte, ma la verità è che non c'è nessuna regia, nessuno in città destabilizza niente. Questa città sta semplicemente pagando la destabilizzazione politico-amministrativa nata dal fatto che nessuno ha mai votato Messinese, Siciliano, Salinitro, Morello, Abela, Catania e Di Francesco. Costoro, forse solo oggi, si accorgono che 22.000 gelesi hanno votato il Movimento 5 Stelle, il cambiamento, un progetto, un'idea che oggi travolge la liturgia della politica che ci ha portato alla disperazione. Nessun gelese vuole questa giunta, ribadiscono i grillini, prova né che in consiglio comunale nessun consigliere rischia di appoggiare apertamente un sindaco privo di programma e progetti. Il Movimento 5 Stelle di Gela, il meet-up di cittadini gelesi vengono traditi da questa giunta destabilizzante ogni giorno. Noi, dicono, stiamo senza se e senza ma, ma con la città civile, con chi vive oggi questo incubo, con la società migliore, con la democrazia rappresentata dal voto popolare. Per questa ragione, per l'ennesima volta, non possiamo che condannare le azioni della giunta e come parte politica, ribadiscono, come cittadini, continuiamo a chiedere le dimissioni del sindaco e degli assessori tutti. Confronto a Palermo, all'Assemblea regionale siciliana, tra il sindaco di Gela, Domenico Mersinese, il presidente della Commissione Ambiente, Mariella Maggio, il dirigente al Servizio Gestione Infrastrutture del Dipartimento regionale Acqua, Francesco Greco, alla presenza dei deputati regionali Pino Federico e Giuseppe Arancio e Salvatore Gallo, in rappresentanza del Consiglio Comunale. Si è parlato di dighe. Il primo cittadino gelese ha sottolineato che si sta lavorando ad un sistema integrato in riguo che mette in collegamento unico le dighe e le condotte in modo da assicurare al settore agricolo gli elementi indispensabili per continuare a produrre eccellenza nella nostra piana. Accolgo con soddisfazione ha aggiunto le rassicurazioni sui 20 milioni di euro stanziati dal Patto per il Sud a favore della diga di Sueri. Gli interventi strutturali previsti assicureranno stabilità al bacino grazie al consolidamento del costone e allo sfangamento dell'invaso in modo da ripristinarne il volume. Il progetto, che sarà redatto da tecnici della regione in collaborazione con alcune università italiane, ha spiegato ancora Messinese, potrebbe essere completo già agli inizi dell'anno prossimo. Altri interventi per 2 milioni e mezzo di euro sono previsti per la diga Comunelli. consentiranno l'adeguamento dello scarico superficiale, il monitoraggio della struttura e la possibilità di aumentare l'attuale capacità d'invaso del bacino. Infine, dopo anni di battaglie per la tutela del patrimonio naturale, abbiamo sollevato concretamente l'attenzione della Quarta Commissione all'Ars sugli interventi di sboscamento selvaggio che una ditta dell'Enese sta eseguendo a Monte delle Dighe per alimentare una centrale a biomasse. Queste azioni responsabili di abbattimento degli alberi che contrastano l'erosione dei terreni vanno ad insabbiare le dighe, ha aggiunto Messinese, vanificando gli interventi per ridare l'acqua alle campagne della Piana di Gela, oltre a violentare gli habitat naturali e l'ecosistema presente in questa zona incontaminata della Sicilia. La questione sarà al centro di un tavolo regionale che si insederà anche per rivedere i dettagli della Convenzione e mettere in discussione tutte le irregolarità che si dovessero presentare. Un calendario ricco di eventi, sono circa 90 eventi distribuiti in circa 50 giorni che vanno da luglio a settembre, la serata conclusiva sarà il 25 settembre, l'ultima domenica di settembre. E' un calendario che viene effettuato con l'aiuto di tutte le associazioni locali che stanno collaborando con l'amministrazione per poter fare una grande estate, se non con un nome magari di richiamo, però ci saranno tanti eventi davvero particolari e interessanti. Ci sono il Gela's Music Fest che ad esempio è un evento per giovani, dove ci sono cover band di artisti importanti, ci sono altri spettacoli teatrali di grande livello per gli amanti come il Prometeo Incatenato o i Chrome Ensemble che per esempio faranno uno spettacolo che è davvero interessante sulle colonne sonore del cinema con la retroproiezione dei film, quelli più famosi, con le colonne sonore più importanti del cinema attuale. Oltre a Miss Italia, insomma, è veramente un calendario talmente ricco di eventi che non riesco a selezionare l'evento preferito che dovrebbe essere visionato. Io chiedo alla cittadinanza di partecipare a tutta l'estate. Un'estate a Gela è per dire che il nostro territorio offre, oltre alle bellezze naturali come il mare, come il lago Biviere, le cicogne, le bellezze storiche, offre anche dei momenti ricreativi per chi ci viene a trovare. Quindi un calendario che si sviluppa fino a tutto il mese di agosto, settembre, e gli ultimi giorni di luglio, dove praticamente chi ci viene a trovare può passare magari una serata gradevole. E' chiaro che il calendario è rivolto ai Gelesi, ma anche a chi è che vuole venire da fuori a venire a passare una bella serata nella città del Golfo. Gela festeggia San Sebastiano. Il programma, stilato dal parroco della chiesa di Settevarine, Don Filippo Salerno, prevede da domenica 31 luglio la Santa Messa, la chiusura del Grest, l'apertura dei festeggiamenti. Appuntamento previsto per le 19. Una settimana di festa che culminerà sabato 6 agosto con la processione del simulacro. In piazza Faustina poi è prevista la benedizione con la reliquia del Santo. Quest'anno la festa di San Sebastiano assume un volto diverso in quanto abbiamo pensato anche come consiglio pastorale di voler dare una svolta un po' diversa degli anni precedenti. In che cosa consiste la novità? Consiste proprio dal fatto che il Santo Padre ci ha un po' introdotti quest'anno nell'anno della misericordia e quindi ci spinge a uscire. Questo ci ha fatto un po' riflettere dicendo che è giusto che noi come parrocchia cominciamo ad evangelizzare e andare porta a porta. Infatti quest'anno, proprio a cominciare già da ieri, abbiamo fatto il primo incontro nei quartieri dove passeremo per tutti i tre quartieri della nostra zona che sono i quartieri Marge, Albani Rocella e Sette Farini e a tutti e tre quartieri andremo porta a porta e porteremo questo messaggio che Gesù ci ama, quindi ci perdona e ci usa misericordia. Questo è il messaggio fondamentale che vogliamo diffondere a tutta la parrocchia. Però l'altra cosa più bella è che quest'anno i festeggiamenti non saranno praticamente fatti tutti in parrocchia ma in parte perché i tre giorni del triduo noi li andremo a fare proprio nelle tre zone. Quindi il giorno tre, il giorno quattro e il giorno cinque noi andremo nei quartieri, quindi la statua di San Sebastiano passerà ed entrerà nei vari quartieri e si fermerà e lì faremo delle catechesi, le testimonianze, il rosario, il vespro e poi la Santa Messa a concludere. Quindi il tre nella zona Margi, il quattro poi nella zona Albani Rocella e il cinque addirittura Poggio Blasco che è la parte finale della nostra parrocchia, la parte più lontana. E poi il giorno sei che è sabato, quindi l'abbiamo anticipata al sabato a posto della domenica per dare la possibilità a tutti in quanto in estate molta gente la domenica evade dai quartieri abbiamo dato la possibilità di farlo il 6, questa festa, quest'anno faremo la messa, una catechesi e poi faremo una breve processione nel quartiere di Settefarine. Questa sarà la festa perché dico si è voluto fare questo proprio per dire a tutti che non sono né i movimenti che si fanno all'esterno né le coreografie esterne che rendono bella una festa ma soprattutto la parola che arriva nel cuore e soprattutto questa esperienza di Gesù che deve venire a illuminare la nostra vita e deve farci imitare la vita dei Santi. Ci sono nuovi servizi e nuove attrazioni sulla spiaggia di Gela dopo le docce pubbliche e bagnanti adesso potranno soffrire anche delle passerelle in PVC il materiale è stato scelto per evitare come è accaduto negli altri anni che il legno utilizzato venisse vandalizzato per il falo di Ferragosto i nuovi camminamenti che poi verranno ritirati alla fine della stagione estiva per essere riutilizzati nel corso della successiva permetteranno un accesso alla battigia soprattutto ai diversabili e ai genitori che portano a mare i bimbi in passeggino. Da ieri poi sul lungomare Federico II di Svevia grazie alla donazione dell'associazione SMAF è stata collocata una cornice in legno a misura umana che permetterà alle persone di fotografarsi con un ritaglio del paesaggio lanciando l'hashtag Gela in una foto la struttura adornata da piante con la dicitura saluti da Gela è collocata ad ovest dove nel tardo pomeriggio si potranno immortalare personalizzati anche i suggestivi tramonti gialesi una piccola cosa insieme alle altre piccole cose che stiamo facendo ma sembra nell'ottica di dare un qualcosa in più alla città il fatto di una cornice che possa far inquadrare una porzione di mare, di porto eccetera è una cosa carina, niente di particolare io semmai ringrazio quei cittadini che hanno voluto donare questo oggetto interessante a mio parere che sono l'associazione SMAP di ragazzi che fanno delle cose splendide hanno fatto anche per la prima volta per esempio vivente a Gela durante lo scorso Natale e poi la Gela ha portato i vasi e completterà con le piante ma c'è solo il desiderio di offrire qualcosa di diverso in più ai nostri cittadini che fanno la passeggiata soprattutto se ogni momento in cui si cominciano a fare foto all'interno di questa cornice questo è sicuramente un modo per diffondere ciò che di bello noi abbiamo il nostro corso di Stabilizzazione ma non è legato 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 è legato Grazie a tutti.